Buonasera a tutti e a tutti, sono Gina Franco, io sono la portinaia di Palazzo Chigi e quindi so sempre quello che succede, perché le cose prima di passare da davanti passano da dietro e questo in generale è la mia vita. Ora oggi io vorrei parlarvi un attimo della faccenda dei droni, perché è una cosa che è partita da me e vorrei spiegarvi però cosa è successo. Praticamente quando si va tardi a Palazzo Chigi ordiniamo le pizze da sporto nella pizzeria di Piazza Navona, da Ronni, che è la pizzeria del fratello di Franceschini, sarebbe il ministro dello spettacolo e del turismo, per chi non sapesse, se non lo sapete non è grave, anche lui è a volte confuso, viene da me e mi chiede ma io chi sono, chi sono, io gli dico tu sei Franceschini e così l'abbiamo risolto. Giovedì sera, era quasi mezzanotte prima del discorso dei Conte, salgo su e dico ragazzi ma due pizzette da Ronni, tutti dicono sì sì vai da Ronni, da Ronni e ordinano tutti i calzoni, in quello entra Burioni che è sempre un po' lì tra e il ministro Guerini che di solito è in bagno a fumare e dico anche voi calzoni da Ronni e loro capiscono azioni coi droni e dicono sì sì conferma conferma e io ho confermato le ordinazioni e si esaltano dai lo facciamo per i nonni ma comunque si trattava della pizza da Ronni, adesso Fontana vuole usare sti droni Lombardia, ho capito ma c'è era tutta una cosa di un ordine di una pizzeria di Roma come tra l'altro anche un costo questo dei droni dico ma piuttosto paghiamo le pizze da Ronni, magari in Lombardia arrivano fredde ma comunque meglio una pizza che un pugno delle mosche, questi Lombardi non è che stanno facendo le feste in moto raduni ragazzi cioè oramai anche le anime sono in casa di integrazione, allora io per questo vi consiglio sempre una bufala con i pomodorini, se volete il link della pizza da Ronni ditemelo, vi mando tutto, potete anche scegliere per dire il gusto online, ciao, guarda sto sgrassatore già finito